Un pezzo di storia di Chieti verrà restaurato e verrà donato alla città da parte della ditta De Cesare specializzata nel restauro monumentale. La colonnetta, una colonna di piccole dimensioni in pietra della maiella, risale al 1818, anno in cui fu posta alla fine della strada che prende il nome proprio colonnetta e che collega Chieti a Chietiscalo, un'unica città con oltre 2000 anni di storia. Sì, è un manufatto molto importante per la città di Chieti, identificativo di Chietiscalo e soprattutto della strada di collegamento tra la città alta e la parte bassa, lo scalo, e quindi ha anche un valore simbolico e anche per questo abbiamo scelto di restaurare con un atto di liberalità gratuitamente, progettazione e realizzazione, proprio questo manufatto, visto che Chieti ne ha comunque tanti di portanti opere d'arte da rivalutare e da restaurare. Tempi previsti, 60 giorni dalla consegna che presumo avverrà subito dopo la firma del contratto, quindi dopo le festività natalizie, in un paio di mesi dovremo realizzare l'intervento. L'importo del restauro è di 20.000 euro. Il progetto sarà curato per la parte edile dall'architetto Fausta Mattoscio e per il resto dall'architetto Maria Grazia De Cesare, che è anche firmataria dell'intero progetto.